Botta e risposta immediata, oggetto del contendere il mercato dell'antiquariato cittadino ed ieri di fatti la nota di Confesercenti Gubbio che aveva gestito la rassegna per un lustro di scena ogni terza domenica del mese fino al periodo pre-covid. L'associazione di categoria gubina ha di fatti espresso il proprio disappunto per come è stata gestita l'emissione e la stesura del nuovo bando con relativo regolamento per l'assegnazione e gestione della rassegna. In particolare non è piaciuta la delocalizzazione della manifestazione nei mesi invernali al Chiosto di San Pietro e complesso di Santo Spirito, luoghi che secondo Confesercenti già in passato hanno visto flop importanti ultimo dei quali la Fiera del Tartufo. Altro aspetto sono le alte spese da affrontare. La base d'asta di fatti non dovrà essere inferiore ai 2.500 euro a cui andranno aggiunti il pagamento di un'assicurazione da anni più il normale pagamento della Tosap e Tari per l'occupazione del suolo pubblico. Tutti aspetti che secondo Confesercenti rischiano di far definitivamente calare il sipario sull'appuntamento mensile. E' oggi arrivata la risposta dell'assessore al commercio Giovanna Uccellani, tornata proprio ad analizzare il nuovo regolamento elaborato per l'assegnazione e la gestione del mercato dell'antiquariato. In particolare l'assessore chiarisce come la delocalizzazione della manifestazione nei mesi invernali al chiostro di San Pietro nel complesso di Santo Spirito sia relativa ad un progetto che dovrà presentare il soggetto gestore. Uccellani aggiunge inoltre che l'amministrazione ha fornito una serie di indicazioni e trattandosi di una mostra di antiquariato, il pensiero comune è stato quello di un contenitore che agevolasse l'esposizione di materiale di pregio, ma certo, trattandosi di un bando, tutto andrà valutato a seconda del progetto presentato. L'assessore Uccellani chiarisce anche la questione della base d'asta, che da bando non dovrà essere inferiore a 2.500 euro. Si tratta di una cifra già comprensiva di ogni onera aggiuntivo, alla quale va aggiunta solo l'assicurazione, che è ovviamente obbligatoria. L'assessore al commercio chiarisce anche come ci sia stato un confronto a più riprese con chi, negli anni, ha avuto esperienze nel settore, sempre nell'ottica della valorizzazione degli spazi e dei progetti. Ogni nostro atto, compreso questo nuovo bando, viene formulato nella ricerca della più alta qualità e delle migliori soluzioni nell'interesse della città. Uccellani chiosa dicendo che l'amministrazione rimane ora in attesa delle manifestazioni di interesse, ricordando agli interessati che il bando scade il prossimo 24 agosto.